La parola Pieromane non la pronuncia nessuno, ma è nell'aria, insieme al fumo e ai lapilli che si sono mangiati quasi mille ettari di bosco. Perché che l'incendio sia opera dell'uomo è chiaro, così come il luogo da dove è partito e l'orario fanno escludere che sia stato un ruogo accidentale. Era di notte, quindi era nella serata, nella tarda serata. Già questo ci fa mettere su qualche pensiero, il fatto che purtroppo eventi similari avvengano e iniziano nella nottata. Mentre le illazioni, hai sentito dire, intasano il web, sono questi i punti fermi di un'indagine che ha ancora i primi passi. Il nucleo dei carabinieri forestali sta raccogliendo testimonianze e indizi, immagini di videosorveglianza di chi è passato quella notte sotto i piloni della bretella. Poco sopra a Bozzano, per dare un volto e un nome al responsabile. Ecco, questo è l'innesco primario, il punto zero. Da qua è partito l'incendio. Questa è l'unica area messa sotto sequestro dai carabinieri per ora. Da qua sono partiti poi gli altri inneschi che hanno causato la devastazione sulle colline della Versilia. Se questi altri inneschi siano colposi o dolosi, ecco questo è esattamente il punto sul quale verte l'indagine. Un ruolo fondamentale lo giocano i vigili del fuoco, i primi da arrivare su diversi punti di innesco. Il materiale che loro hanno raccolto servirà a stringere il cerchio attorno all'innominabile per adesso piromane. Sì, come ha detto questa fase chiaramente è già iniziata, anche la fase di supporto, perché durante tutte le operazioni di spegnimento che continuiamo comunque a effettuare, facciamo anche in parallelo delle attività di videodocumentazione. e quindi abbiamo comunque del materiale che sarà utile ai colleghi carabinieri forestali con cui collaboriamo in questa attività e forniremo come sempre il massimo supporto per metterli in condizioni di portare avanti le indagini nel miglior modo possibile. Allora, dopo questi giorni chiaramente la sensazione è che, come tutti hanno visto, si è trattata di una cosa veramente grande. Chiaramente noi siamo intervenuti nella nottata, la prima notte, diciamo dalla domenica, dalla lunedì al martedì sera. Detto questo, come ho detto, ripeto, poi le indagini andranno avanti e noi continuiamo a fare il nostro lavoro anche di supporto all'attività di presso giudizio.